Storico Alberto Orsini Non sarà più una scuola ma la storica Edmondo Diamicis dell'Aquila al termine dei lavori di ricostruzione ospiterà uffici comunali ai livelli superiori e una sorta di galleria al piano terra con sale lettura, ambienti per i giovani e probabilmente qualche spazio commerciale Uno dei cantieri pubblici più attesi finalmente è partito alla fine del 2019 dopo una lunghissima fase di progettazione e un'ancor più estenuante battaglia legale traditte per l'aggiudicazione dei lavori a 9 milioni di euro affidati in via definitiva al consorzio stabile 6 di Cuneo La Diamicis simbolo anche del concerto Amiche per l'Abruzzo del 21 giugno 2009 quando Laura Pausini e le altre artiste raccolsero circa un milione di euro con l'evento a Milano Fondi il cui impiego si è per anni schiantato contro la muraglia di puntellamenti che teneva in piedi la facciata presto divenuta un simbolo triste delle lentezze burocratiche di una ricostruzione a tutt'oggi annosa quella degli uffici pubblici Ora finalmente si lavora con la prospettiva di chiudere in due anni Il complesso nacque nel 400 come ospedale per azioni di San Giovanni da Capestrano Nel 600 al piano superiore si aggiunse anche un teatro che guardava proprio alla piazza dove sarebbe sorto l'attuale De Angelis Novecentesca è la trasformazione in scuola elementare con le lezioni che si sono fermate ad aprile 2009 L'idea dell'amministrazione una volta creati i parcheggi nei pressi del centro come a Portaleoni è ospitare qui uffici aperti al pubblico Al piano terra invece spazio più sociale così che i giovani possano tornare a leggere l'esortazione dell'autore di cuore I libri siano le vostre armi I libri siano le vostre armi